Diamo il benvenuto allo stand di TranspoBank Alisa e Sergio della SP Trasporti raccontateci qualcosa della vostra azienda voi siete clienti TranspoBank come come svolgete la vostra attività quanti veicoli avete e soprattutto dove effettuati i vostri trasporti? noi siamo un'azienda di Padova abbiamo 14 mezzi siamo nati nel 2005 e siamo clienti TranspoBank penso proprio dal 2005 quindi da subito da subito perché TranspoBank perché noi abbiamo una committenza che è in andata verso parecchie direttrici e usiamo TranspoBank per tutti i tipi di ritorni che abbiamo usato come è stato l'incontro con TranspoBank? come è avvenuto? è passato a trovarci il signor Roccati e niente ha fatto la proposta l'abbiamo valutata considerata valida e abbiamo iniziato e da quel momento è stato subito amore è stato subito amore ci piace molto come come affermazione voi viaggiate in tutta Italia centro nord principalmente centro nord come si compone la vostra flotta? beh per quanto per l'uso di Transpo ha di centinati essenzialmente perché dopo adesso lo specifico quindi lo specifico ha la sua tipologia mentre per quanto riguarda le merci generali noi facciamo grande distribuzione e eventi fieristici quindi ci troviamo spesso in zone dove si concentrano anche attività logistiche di un certo tipo per cui incontrare operatori che hanno il momento del bisogno del il bisogno del trasporto avete avuto in questi anni dal 2005 ad oggi bisogno magari di assistenza come è stato il nostro servizio di customer care? beh diciamo un po' per inesperienza nei primi anni sì soprattutto per quanto riguarda alcuni incassi e diciamo che c'è stata come dire un'intercessione personale del signor Roccati che ci ha fatto in qualche modo incassare le fatture quindi non abbiamo avuto non abbiamo avuto insolvenze particolari diciamo che sono state tutte cose di questo tipo quindi la gente di zona diventa anche assistente personale in cui se ne abbia bisogno in caso di necessità? d'accordo grazie infinite ad entrambi salutiamo la SP Trasporti e buon transportec 2022 ad entrambi grazie grazie Grazie.